Allora ragazzi, tra ragù e polpetta mi sono dovuto staccare un attimo per fare questo video perché cioè non c'è, non so cosa commentare, guardate, vi faccio vedere questa scritta, guardate guardate questo, leggete attentamente, vi lascio questi 10 secondi per leggere e poi mi spiegate voi che significa perché io non ci capisco niente di più, credetemi in Algevist articoli inutili, ma c'è veramente, quindi io mi porterei adesso i camerieri e gli chef a lavorare in nero con reddito, abbiamo già esposto denuncia e abbiamo querelato queste persone che hanno diffamato la mia immagine e ragazzi che vi devo dire? La domanda è proprio questa, cioè nel senso come spiegare, come spiegare ai giornalisti anche, non voglio buttare sempre fango addosso ai giornalisti però dico come si fa a spiegare ai giornalisti il senso di questi articoli qual è? ragazzi il senso di questi articoli qual è? Il senso che io sono un giornalista e scrivo che un cantante si porta ai camerieri e gli chef appresso, abusivi, con reddito di cittadinanza e lavorano in nero il nesso ragazzi, io non capisco, io o sono troppo, io che mi applico troppo sulle cose o vuoi, cioè non lo so, io dovete andare a vendere i fazzolettini, capito, sull'autogrill io non riesco a capire, spiegatemelo, vi prego ragazzi, perché non è possibile cioè se io lì...